Intercettare, sorprendere ed eliminare. Capate qui. Se doveste incontrare Oz, prendetelo vivo o morto. Se invece vedete la sua macchina, lasciatela integra. Quella tecnologia ci serve. Il mondo ne ha bisogno. Non ci lasceremo più minacciare dai segreti dell'America. Le nostre truppe hanno occupato il settore golf. Iniziamo l'assalto. Ah, ecco uno. Danni poco di copertura. Resta una manciata di settori. Li controlliamo quasi tutti. Settore Bravo è sotto il controllo americano. Settore Bravo è sotto il controllo americano. Settore Delta è stato conquistato dai nemici. Impedite agli americani di conquistare tutti i settori. Senta una granata! Vai fuori. Ricarica, attenzione! Gli americani attaccano a uno dei nostri obiettivi. Settore Bravo è messo in sicurezza. Nemico fuori gioco! Fate in guardia. EMP, locale piazza. EMP, locale piazza. Issocine непriятностей! Abbiamo capturato tutto il settore, Charles! Sto dissanguando! Abbiamo il controllo completo del settore ECO. Ben fatto! Abbiamo il controllo di quasi tutti i settori. Gli americani non hanno più molte risorse. Interferenza in arrivo. Aggiornamento, subito! Stiamo respingendo gli americani come pianificato. Gli americani hanno catturato il settore Fox Trotter. Raggiungiamo quell'obiettivo! Aggiornamento stato tattico. Se non li fermiamo, gli americani prenderanno tutti i settori. Stiamo attaccando Fox Trotter 1. Ecco il nemico! Nemico abbattuto! Non mi serve non di aiuto! Sopera! Non è solo! Non è solo! Sopera! Mettiamo un stupendo danno! Non mi serve alcun aiuto! Sopera! Non mi serve alcun aiuto! Supporto aereo finito in arrivo, Avest! Abbiamo il controllo completo del settore Foxtrot, ci stanno attaccando a Foxtrot 1, controlliamo la maggior parte dei settori sul campo. Un amico! Avest! Ora controllano il settore Charlie. Impedite agli americani di conquistare tutti i settori! Un amico eliminato! Un amico! 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 aperti, mi serve copertura. Resta una manciata di settori. Li controlliamo quasi tutti. Hanno usato metà delle loro risorse. Non riesco a rialzarmi. Settore bravo è sotto il controllo americano. Aiuto, sto morendo. Mi metto in settore. Obiettivo alleato sotto attacco. Controlliamo la maggior parte dei settori sul campo. Hanno il controllo del settore eco. Contatto avvistato. Rifornimenti qui. Elicopolo ostile, segnalato. Non lo permetterò. Innesi. Un po' di controllo. Non lo permetterò. Non lo permetterò. Lo betto. Non lo permetterò. Abbiamo un po' di controllo. Non lo permetterò. Torniamo. Sono a secco! Avete colpi! Occhi aperti! Attività nemica! Vicino a me! Colpi finiti! Chi ne hai in più? Chi ne hai in più? La romanzametri da me! Le nostre truppe attaccano Delta 1. Dobbiamo tutti! Chi ne hai in più? Il comando osserva! Chi ne hai in più? Attività ne hai in più! Chi ne hai in più? Abbiamo preso il settore Delta! Resta una manciata di settori! Li controlliamo quasi tutti! Non fate caso alle interferenze! Non fate caso alle interferenze! Non fate caso alle interferenze! Non fate! Non fate! Non fate! Non fate! Non fate! Che il settore ECO ha acciruto alle nostre attacche! No, 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 no. 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 Lì ci sono dei rifornimenti. No, 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 no. No, 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 no. Se non li fermiamo, gli americani prenderanno tutti i settori. Gli alleati stanno catturando l'obiettivo. No, 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 no. La vittoria è nostra, la vittoria è nostra. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti